CGL, Cisle e Wille Macerata insieme a Anolf, Caritas, Acli, Axim, Centro di Ascolto, Associazione Peruviani di Macerata e alla Consulta per l'Immigrazione di Tolentino sono scesi oggi in piazza per protestare contro la tassa sul permesso di soggiorno. Dalle 12 alle 13 è stato organizzato un presidio davanti alla Prefettura di Macerata per dire no a questo contributo che sarà imposto a tutti i cittadini stranieri dell'età di 18 anni che chiederanno il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. L'importo della tassa varia da 80 a 200 euro a secondo della durata del permesso stesso. Noi siamo qua per protestare contro la nuova legge che ha fatto il governo italiano per il permesso di soggiorno. Quei soldi che c'è da pagare, 200 è troppo per noi perché già guadagniamo così poco e paghiamo tante le tasse anche per l'affitto e tutte le altre cose non è giusto, non è giusto, veramente non è giusto. Loro devono proprio vedere che siamo stranieri, non ce l'abbiamo ecco perché siamo tutti qua. Vogliamo lavorare onestamente e guadagnarsi onestamente e pagare quello che è giusto. Inizialmente prevista dal pacchetto sicurezza approvato con legge 94 del 2009, la tassa sul permesso di soggiorno entrerà in vigore dal 31 gennaio in forza di quanto previsto dal decreto del 6 ottobre 2011. Grazie a tutti.